S.K.I.D. S.K.I.D. E' questo over, meno male. I don't know where we are going now. Oh, bravo, bravo, bravo. I don't know where we are going now. Oh, oh. So take a look at me now. So take a look at me now. Take a look at me. Take a look at me now. Grazie mille per aver guardato. Iscrivetevi al nostro canale YouTube. Andate sul sito xfactor.sky.it e se vi avanza tempo, ma sono sicuro che sarà così, controllate le offerte in ottimo. Grazie mille.